Allora, siamo con Sauro Mariani, responsabile marketing e comunicazione di MTV Mobile. Buongiorno. Buongiorno. Come avete scelto di aderire a questo E-Days? Allora, mi ha scelto di aderire all'E-Days perché noi facciamo due sconsolitazioni. Abbiamo fatto Amiche dell'Abruzzo per le finalità carriera e facciamo E-Days perché perché volevamo essere su Milano, perché dal punto di vista della qualità musicale è unica in Italia, perché ci piace l'idea di sostenere un festival musicale italiano e perché ci consentivano di andare anche a sperimentare la modalità di accesso e di partecipazione alla musica con la possibilità appunto di poter fare dal nostro sito e del vendere dei ticket, quindi per la prima volta in Italia farò l'ingegno ticket length, legato degli elementi della musica.